L'aumento della partecipazione e dei ricavi sono le maggiori sfide per gli organi direttivi nazionali. In Pichiro riteniamo che la soluzione sia in una tecnologia innovativa studiata per coinvolgere i partecipanti, migliorare la comunicazione e unire gli amanti dello sport locale online. A tal fine abbiamo creato Pichiro Together, una piattaforma digitale dedicata allo sport unica nel suo genere, per fornire agli organi direttivi nazionali il potere di riunire le community sportive locali online in una rete digitale apprendizzata. Costruita da zero, Pichiro Together favorisce sia la partecipazione che i ricavi in un nuovo mondo digitale. Per prima cosa, unisci la tua community grazie ai premiati prodotti e servizi digitali di Pichiro, siti web per club basati su template di facile utilizzo, app mobili intuitive per giocatori, genitori e allenatori. Ogni prodotto include servizi che consentono di risparmiare tempo, quali gestione delle squadre e registrazione online, tutti studiati in esclusiva per lo sport locale, registrazione dei giocatori di facile utilizzo per Carla, la segretaria addetta alle iscrizioni, selezione mobile delle squadre per Roberto, l'allenatore, app mobili e video dei momenti salienti per Giovanni, il giocatore. Pichiro ha pensato a tutto e a tutti. La fase 2 riguarda dati e contenuti. All'interno della tua rete, i partecipanti possono caricare contenuti e registrare dati in tempo reale, dalle più recenti selezioni delle squadre ai risultati delle partite e alle notizie sulle squadre. Tutti i dati vengono acquisiti e resi disponibili per te e per gli organi direttivi nazionali attraverso un'app in tempo reale. Potrai estrarre questi dati per il tuo Data Warehouse, oppure unire i tuoi dati nella rete, integrando in tempo reale i tuoi dati sulle iscrizioni e sui campionati. Infine, la fase 3. Acquisisci il pieno controllo della tua rete con branding, contenuti e sponsorizzazione personalizzati. Associa il tuo marchio alla rete inserendo il logo dell'organo direttivo nazionale, unificando contenuti quali nuovi elementi, video e risorse del club. Vendendo sponsorizzazione e pubblicità ai partner e promuovendo eventi nazionali e merchandising. Una volta completata la tua rete Picciro, diventerà lo strumento principale per gestire la tua community locale e comunicare quotidianamente e settimanalmente con i tuoi partecipanti. Lascia che Picciro si occupi del resto. Dagli hosting agli upgrade, Picciro gestirà per tuo conto la rete, fornendo supporto a ogni membro registrato. La piattaforma che supporta la rete degli organi direttivi nazionali è già attiva e ha la fiducia di 10.000 club in tutto il mondo. La tua nuova rete locale sarà attiva nel giro di pochi giorni. Genera nuovi ricavi per il tuo sport e avvicina i membri della tua community locale online. Aumenta la partecipazione ai ricavi. Crea la tua nuova rete locale digitale. Compicciro Together. Aumenta la partecipazione ai ricavi.